bentornati voglio ringraziare gli amici del canale che sono venuti a vedere l'intervista che ho realizzato con ale del suo canale alle passione milan per chi ancora non l'ha fatto e vi do ancora questa giornata poi come promesso vi segno in descrizione vi lascio il link anche oggi per andare a vedere il video mi raccomando iscrivetevi al canale di alle passione milan perché un ragazzo che merita veniamo alle cose nostre alle cose di milan tra una settimana circa tra otto giorni si giocherà contro la juventus si tornerà ufficialmente in campo sarà la partita che darà il via al calcio italiano per la ripresa dopo la sosta forzata a causa del covid e in riferimento a quella partita in questi giorni si parla molto delle degli esperimenti tattici di pioli dei quali parliamo tra poco rischiamo di distrarci con un po troppe notizie di mercato come ad esempio quella relativa la clausola di benassera della quale parliamo tra poco ma ieri sono uscite le quote dei bookmakers quote bookmakers che danno come sempre un'indicazione su quello che potrà essere l'andamento della partita allora vediamole insieme la juventus paga paga la vittoria della juve 1 e 60 il pareggio paga quattro volte la posta la vittoria del milan 5,75 come potete vedere sono quote non molto sbilanciate o per meglio dire lo sarebbero state sicuramente di più nel caso in cui la partita si fosse svolta regolarmente quando si doveva giocare ecco perché io dico sarà difficile sarà quasi impossibile però abbiamo il dovere e l'obbligo di provarci perché anche loro comunque ritornano a giocare per la prima volta venerdì perché noi nonostante le tante assenze nonostante tutto quello che volete siamo comunque il milan e dobbiamo provare a fare una cosa che non c'è mai riuscita cioè andare a vincere sul campo della juventus in quel del juventus stadium speriamo di fare se non altro una bella figura e poi chi lo sa magari un pareggino e poi i calci di rigore vedremo che cosa succede speriamo che come dicevo l'altro giorno il trend rispetto a quello che abbiamo visto ad esempio in bundesliga dove più o meno le squadre hanno ripreso da dove avevano lasciato speriamo che non succeda anche qui da noi a proposito delle formazioni e degli esperimenti di pioli oggi sul giornale si parla dei due moduli che il tecnico sta provando perché gli esperimenti vanno in direzione di un 4 3 1 2 con cialanoglu e leao e rebic di punta e ieri si è parlato anche di un 4 3 2 1 con pacchetta e cialanoglu tre quartisti rebic punta centrale mentre a centrocampo buonaventura benasser e che si con questa soluzione leao sarebbe escluso dall'undici titolare e questa potrà essere un'indicazione importante perché come vi ho detto è il momento giusto per leao per cercare di mettersi in mostra per cercare di farci capire se potrà far parte del minan del futuro cosa che io credo peraltro e però da quello che si è detto ieri pare che pioli stia anche pensando di non schierarlo evidentemente c'è qualcosa che non va chi invece in grande forma è detta dei giornali sono pacchetta e buonaventura di buonaventura abbiamo già parlato sapete che adesso è partito requiem per il giocatore che ci lascerà alla fine di questa stagione il suo contratto scade il 30 giugno ancora non si è detto nulla in merito a quelle che saranno abituali proroghe che si potranno applicare per questi contratti sicuramente lo si farà ma sapete che in italia non c'è mai troppa fretta per queste cose in ogni caso pacchetta viene segnalato appunto come uno dei giocatori più informe quindi giocherà lui come leao è ovviamente uno degli attenzionati in queste partite perché dovrà dimostrare anche lui di poter eventualmente continuare a far parte del milan anche se secondo me è un oggetto di mercato quindi verrà messo o per la vendita o per lo scambio in qualche trattativa secondo me riferimento alle cinque sostituzioni sapete che si potranno effettuare cinque cambi in questa seconda e ultima parte di stagione a partita ebbene noi faremo fatica a mettere insieme già 11 giocatori tra squalifiche e infortuni ed ecco perché si parla di una promozione di alcuni giocatori della primavera in pianta stabile nella prima squadra del milan si parla in particolare di tonine di olzer torrasi e di colombo allora di colombo mi hanno parlato molto bene mi hanno detto che un attaccante mancino che gioca mi hanno detto prevalentemente esterno poi magari qualcuno di voi più esperto sui giovani mi confermerà oppure mi smentirà insomma mi dicono che sia un giocatore molto interessante tra l'altro ha segnato nove gol in sei partite e ha anche giocato con le nazionali di categoria in ogni caso sarà necessario aggregare anche dei giovani per riuscire a fare numero nel frattempo il mister pioli è determinato ma anche un po di paura perché determinato è determinato perché vuole chiudere bene la stagione questo lo sappiamo vuole provare a superare l'ostacolo quasi insormontabile della juventus e poi andare a conquistare un posto in europa league cosa che potrebbe sembrare più semplice ma abbiamo visto che senza ibra si farà molta fatica a segnare questo è poco ma sicuro al di là di quelle che potranno essere eventuali e secondo me non non probabili alchimie tattiche dell'allenatore i giocatori sono quelli sappiamo che in attacco facciamo fatica in ogni caso pioli ha paura che la reazione negativa della squadra rispetto a tutte le voci di mercato che sono giunte fino adesso possa come dire inficiare i risultati è una cosa possibile una cosa probabile ma questo succederà inevitabilmente anche per altri giocatori di altre squadre perché non è che sono solo quelli del milan ad essere sul mercato tutti i giocatori diciamo delle grandi squadre hanno mercato e quindi inevitabilmente si farà chiacchiericcio nelle prossime settimane per cui questa influenza potrebbe capitare anche ad altri relativamente a quelli che sono gli infortunati di cui parlavamo prima quello che è capitato a duarte è meno grave di quello che si era detto in un primo momento e quindi il difensore brasiliano sarà fermo 15 giorni e sarà di fatto disponibile o più o meno recuperato per l'inizio del campionato al 20 di giugno 22 di giugno contro il lecce nel frattempo ibrahimovic è ritornato in italia e lancia segnali lo svedese ha contratto fino a 30 giugno ma ovviamente resterà oltre quella data è propositivo eccetera eccetera avrebbe starebbe valutando la possibilità di rimanere ancora al milan e ovviamente questa cosa fa un po' sorridere perché non è lui che deve valutare se rimanere al milan quanto il milan deve valutare se tenerlo oppure no e secondo me no per lo meno non ha le cifre il futuro di ibrahimovic a mio avviso è lontano e questo ce lo racconta non solo una certa predisposizione di gazidis a non stipulare non far stipulare contratti di un certo peso e sappiamo che ibra è arrivato per situazioni contingenti per necessità per l'obbligo di salvare una stagione che stava veramente prendendo una piega non dico pericolosa ma assolutamente deludente ibra se non altro ha dato un po di slancio anche da un punto di vista di immagine da un punto di vista emotivo a tutti noi tifosi però non è questo il futuro della squadra il futuro della squadra sarà il progetto Rangnick sarà un progetto fatto di giovani tra l'altro col contratto di ibra Rangnick compra 12 giocatori quindi vedete bene che la compatibilità tra la figura dello svedese e il calcio l'idea di Rangnick è completamente opposta questo però non toglie il fatto che se ibra avesse non lo so 4 5 anni di meno e fossimo in una situazione economica diversa non credo che Rangnick se ne libererebbe così facilmente almeno questa è l'idea non credo che sia un ottuso o un come dire un fondamentalista fino a quel punto in questa situazione in questo momento per l'età di ibra per la situazione economica per la necessità di fare mercato e innestare dei giocatori che possano permettere a Rangnick di fare il suo gioco ecco che l'incompatibilità è totale a proposito di mercato e veniamo alle cose succulente tiago silva vuole ritornare al milan secondo tutto sport tiago silva che si libera a fine giugno vuole tornare la decisione spetterà gazidi serangnick ma ci sono due ostacoli così da niente lo stipendio tiago silva guadagna 12 milioni di euro a stagione e poi l'età tiago silva 36 anni e direi che questi sono due parametri che già bastano per chiudere definitivamente i sogni di chi eventualmente sogna un ritorno di tiago silva lo sapete io non sono fra questi sono contrario totalmente a un'operazione del genere e per fortuna questa non avverrà ma c'è un altro silva che invece sta facendo molto bene ed è andrei silva in gol anche ieri sera contro la malaugurata malcapitata e maldestra difesa del verde brema squadra che rischia seriamente la retrocessione che rischia seriamente la retrocessione perché con una difesa del genere onestamente non si va da nessuna parte in ogni caso andre silva ha segnato quattro gol nelle ultime cinque partite tra l'altro agendo quasi da riferimento centrale da prima punta in realtà poi se avete visto la partita la mobilità di andre silva è continua nell'arco della partita ci sono tanti inserimenti dei trequartisti e degli attaccanti esterni quindi in ogni caso è una prima punta fittizia però in questo periodo particolarmente prolifica il milan per non registrare minus valenza 2020 dovrebbe incassare 15 milioni e mezzo di euro quindi quest'anno ma sappiamo che andre silva ancora una stagione di prestito nella prossima stagione il residuo bilancio sarà di 7,6 milioni di euro quindi capite che con andre silva riusciremo tranquillamente a fare plus valenza perché anche dovesse andar male secondo me dai 15 ai 20 milioni di euro li possiamo chiedere ma secondo me non andrà male sta facendo piuttosto bene può essere che veramente come diceva anche il direttore sportivo dell'antra di francoforte abbia trovato la sua dimensione a proposito del pari saint germain vediamo alla notizia di giornata e cioè ieri è uscita indiscrezione riportata dal giornalista daniele longo di calciomercato.com io ve la riporto non ci sono state altre fonti che l'hanno confermato ne parliamo però sappiate che è da prendere con le pinze questa notizia esisterebbe una clausola da 50 milioni di euro legata a ismail benasser benasser ricorderete è stato acquistato dall'empoli per 16 milioni di euro più bonus c'è un forte interesse che si registra abbiamo segnalato nelle ultime settimane del pari saint germain ma anche il manchester city vorrebbe il giocatore adesso le considerazioni da fare sono molteplici e partiamo da una questione di principio se ogni anno ci ritroviamo a dover ridisegnare un reparto importante direi quasi fondamentale come il centrocampo secondo me difficilmente arriveremo a ottenere i nostri risultati questo non vuol dire che da un punto di vista economico l'operazione benasser con una clausola 50 milioni di euro non possa essere vantaggiosa per noi questo non vuol dire inevitabilmente che se arrivasse davvero qualcuno con 50 milioni di euro in mano per il ragazzo algerino noi dovremmo dire di sì e dovremmo cederlo ci sono dunque questi due fronti che viaggiano paralleli che mai si toccheranno cioè quelli che ritengono che benasser debba essere incedibile a qualsiasi cifra e quelli che invece fanno un po di conto io mi trovo purtroppo in una via di mezzo nel senso che da un lato mi rendo conto quanto l'aspetto economico sia importante quanto ci sia bisogno di ripianare il bilancio e quanto le plusvalenze nel calcio di oggi siano fondamentali in regime di fair play finanziario dall'altra parte benasser è un giocatore che a me piace che vorrei vedere allenato e gestito in una squadra e da un allenatore che riesce a organizzare un gioco di un certo tipo già quest'anno ha fatto bene rendiamoci conto che tutto sommato il centrocampo del milan quest'anno è stato principalmente lui chiaramente i risultati nel complesso non sono stati entusiasmanti ma non certo per colpa sua è un ragazzo che ha ampi margini di miglioramento a questo punto io mi rimetto nelle vostre mani per le valutazioni relative a quella che potrebbe essere un'eventuale cessione alla cifra della clausola forse in questo momento è una valutazione difficile da fare nel senso che siamo alle porte della ripresa della stagione il mercato sarà molto più in là continueremo ad avere voci non sappiamo chi arriverà e che tipo di gioco si potrà fare ecco non abbiamo ancora le idee chiare su questo aspetto per cui dire adesso sì lo venderei sicuramente o dire adesso no lo terrei sicuramente è un po' presto col tutto ripeto con tutto che la clausola 50 milioni va assolutamente verificata e va confermata per quanto io non metto in dubbio le parole di questo di questo giornalista daniele longo che ci racconta questa cosa staremo a vedere adesso voglio le vostre impressioni le vostre opinioni ieri qualcuno ha già cominciato a scrivere relativamente a benassere perché la notizia che un pochino ha colpito il popolo milanista fatemi sapere che cosa ne sape che cosa ne pensate mettete un like al video iscrivetevi al canale andate sotto c'è il link per vedere l'intervista sul canale di ale passione milan e scrivetevi anche il suo canale e noi ci sentiamo alla prossima